. . . . . e c'è niente eh eh dove qua dietro vai usci muoviamolo eh c'è stagone ssh ma sono fregato ok è morto? è certo che è morto controllate prendete il cazzo di cosa eh non c'ho più i secondi devi prendere il clue dal secondo da quello arriva all'altro magari simone ci fa capire qualcosa invece di cura a destra e a sinistra ssh apri guardia ssh mui ha detto che sto qui controllatemi si stanno a guardare la daniel oh ok nooo ha sparato a me quindi sta in questa direzione due sono morti manca l'ultimo dai beh corto raggio eh dammi una mano Simo ecco ecco non è uscito no 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 fuori ma che palle oh come esce a sinistra come esce a sinistra come esce a sinistra è lì ma vogliamo pushare insieme posso sì eh sta bene sta bene da me Ludo cazzo vai arriva allora mi devo buttare dai mi butto perchè è uscita dalla porta Ludo dove sono uscito io sta bene dai è il momento usciamolo eccolo dai 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 beh lo sapevo da dove oh? da qua sotto di me no lui Simone da dove? eh da sotto oh Romero da sotto mi ha sparato da sotto a me bravo vediamo su diamo di fuoco qua c'è la lampada si si eh aspetta però mentre lo coppino eccolo eccolo sta qua qua vicino a 50 metri siamo ammazzato da me c'è la palestra eccolo perfetto perfetto qua c'è una pala eh no no è morto sono arrivati gani 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 ammazzato che cazzo è morto c'è la scuola c'è la scuola marco di umore c'è la scuola c'è la scuola c'è la scuola c'è la scuola è ancora morto aspetta bravo vai salito aspetta le summon non mandare banishing sta qua sotto bravo bravo ok bravo simone cazzo c'avevo tre costri quasi c'avevo tre costri oh solo è nero no bravo eccolo eccolo la eccolo va c'è tutto il cuore zitto 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 ho preso ho preso pure io, perfetto, vai simon sono a fogo, cazzo ecco no 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 eccolo ecco aspetta 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 Araglia? no aspetta si muove ok c'è due colpa 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 c'è due colpa